Camilla Canepa, oggi i giornali si occupano di questa ragazza, sappiamo tutti che cosa è successo proprio nella mia regione, nella Liguria, che cosa succede insomma in breve per raccontare la cronaca, una ragazza diciottenne che si stava preparando per l'esame di maturità dopo una propaganda vaccinale insistente, vaccinatevi se volete liberi per essere più liberi, un po' presente in tutta Italia ma con grande forza ribadita dal presidente della regione Liguria, decide probabilmente come hanno fatto tanti altri giovani di vaccinarsi, si sente poco bene, pochi giorni dopo viene ricoverata, poi viene riportata di nuovo a casa, insomma non vi sto qui a raccontare nei dettagli la storia, il risultato di questa vicenda però è che questa ragazza nel pieno della vita, se voi vedete le fotografie vedete una bella ragazza, occhi lucenti, sorriso, questa bella ragazza insomma a diciotto anni nel pieno della vita, con una vita davanti, finisce la sua vita. I giornali, le televisioni dei giorni in cui avviene l'avvenimento sono queste, di cui avviene il decesso sono queste, morta diciottene dopo vaccino a strazeneca, Camila però soffriva di piastrinopenia, autoimmune scusate i termini tecnici, però insomma capite? È morta, ha fatto il vaccino, sì, però era malata in sostanza, quindi non conta, in fin dei conti era malata, quindi ahimè purtroppo succede, Camila era affetta da una malattia autoimmune familiare che determina carenza di piastrine, quindi sì, è vero, vaccinata, insomma non vale il discorso morti con o per covid, qui si tratta di vaccini e quindi eh no, eh no, non è morta di vaccino, è morta perché è affetta da una malattia autoimmune familiare, non vi dico le fonti perché tanto su tutti i giornali, intervista televisiva al virologo, infettivologo, insomma quello che più conosciamo ormai, inutile il nome, cioè una persona ormai che ce lo troviamo tutti i giorni, che dichiara apertamente l'ospedale San Martino, quindi insomma dove lui lavora, che dichiara subito senza dubbio precisa che sia morta in seguito al vaccino, eh, dopo il vaccino, ma non per il vaccino, eh, non è stato verificato alcun esso casuale, eh, insomma qui, quindi la situazione è chiara, è morta, ma il vaccino non c'è nessuna correlazione in sostanza. E cosa emerge in questi giorni? Dalla perizia che magari non sarà definitiva, non lo so, gli avvocati qui chiederanno magari supplementi di indagine, eccetera? Beh, vogliamo negare l'evidenza? La perizia dice che è morta a causa, a causa della vaccinazione. Insomma, se questa ragazza non fosse stata vaccinata, oggi sarebbe ancora viva. Eh, non mi sbaglio, ecco, questa è la realtà, no? Oggi, e allora ecco la nuova narrazione. Eh sì, i giornali non dicono guardate che nel 10 giugno abbiamo scritto delle sciocchezze, delle falsità. No, no, assolutamente le cose che vi ho detto tratto dai giornali, dalle televisioni di allora e dalle dichiarazioni di allora vanno tutte, ormai se le sono dimenticate tutte, quello che hanno detto. E allora adesso la costruzione è, insomma, prima di tutto bisognerà fare nuovi accertamenti, non è che siamo così sicuri. Tanto il tempo passa, il tempo passa, eccetera. Della sofferenza dei genitori non se ne occupa nessuno, ovviamente, familiari, genitori. Insomma, hanno perso una fila di 18 anni nel pieno della vita. Come padre o come madre il dolore deve essere grandissimo. Ebbene, no. Adesso il problema è che, ebbè, ma in simile dei conti, se tu esci di casa ti può cadere un qualcosa sulla testa, no? Ti può cadere un vaso sulla testa e muori. Insomma, voglio dire, è una cosa accidentale, no? Quello che è successo, il vaccino, non succede mai. È chiaro, non succede mai. No, 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 non succede mai. Cioè, voglio dire, è paragonabile alla caduta del vaso sulla testa? Ma non succede mai, perché ci danno soltanto i dati dei morti di Covid e non ci danno i dati quotidiani, giornalieri, dei morti che invece avvengono attraverso il vaccino, per via del vaccino. Ah, ma sto esagerando. Non è vero. Beh, forse non è stato ancora accertato. Dal 10 giugno adesso hanno accertato. E solo perché era stata richiesta l'autopsia. Perché guardate l'autopsia, il nostro, cosa come si chiama, ha detto il ministro, ha detto, non fatelo. E ti credo, meglio non fai l'autopsia così. Morta per infarto. E no, qui hanno fatto l'autopsia. Prima no, non c'entra niente, era malata. Giornali, eh? Giornali, eh? Giornali che voi comprate. Giornali, costantemente. Questa è stata l'informazione intorno alla metà di giugno. E chi avanzava qualche perplessità? E ero tra quelli. Negazionista. Novax. Sciacallo. Non so, sciacallo perché voglio accertare semplicemente la verità. La verità oggi purtroppo con grande dolore, con grande dispiacere, però purtroppo questa ragazza è morta non perché gli è cascato il vaso sulla testa, eh? O perché è uscita senza motorino, boom, è andata a sbattere. No, non è questa la situazione. Perché? Perché ogni giorno abbiamo un caso di questo genere connesso ai vaccini. Anche se non ce lo dicono. In America, lo sappiamo, sono mi pare 13.000 morti già a causa del vaccino. Ma lì te lo dicono chiaramente, c'hai dei documenti ufficiali, boom, è morti, oppure effetti avversi, gravi. No, qui non ti dicono assolutamente niente. E se per caso ne parli, sei uno sciacallo. Perché stai parlando di una povera ragazza che è morta. Ma io lo faccio con tutto il rispetto per questa ragazza morta e per il dolore di questi genitori. Non lo faccio più in uso strumentale. Ci mancherebbe altro. Assolutamente. Ecco, però, guardate, scusate, se sorrido in queste situazioni non bisognerebbe sorridere. Ma scappa perché magari appunto non sono implicato direttamente, sto analizzando la cosa sotto un profilo filosofico. Ma il dolore per questa famiglia sarà, immagine, credo, è sicuro che è così, è immenso. Ma ora io mi chiedo, c'è qualche responsabile? No, perché voglio dire, qui c'è un morto. No? Morto. Cioè, morto, morto. Uno prende, insomma, codice penale. Codice penale. Codice penale. 589. 589. 589. 589. 589. 589 è quello che... Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Oh, ma scusate, qui è morto qualche d'uno o non è morto qualcuno? Sì. Ecco, però, vedete, in questo caso non c'entra niente. Nessuno è responsabile. La magistratura indaga per contro ignoti, omicidio contro ignoti. ignoti. Cioè, voglio dire, non so, è il vaso che è caduto sulla testa casualmente, un corpo di vento, no? Quindi, omicidio è il vaso, no? Omicidio contro ignoti. Ma, voglio dire, ignoti, l'inoculazione è avvenuta da sola? Cioè, voglio dire, non... Se l'è fatta da solo l'AstraZeneca? Eh? E perché se l'è fatta? Cioè, chi è che ha spinto a farla? Vabbè, propaganda non finire. Ma anche questo, un po' di responsabilità ci sarebbe, no? Tant'è vero che subito dopo la morte, quell'enorme manifesto che imperava sul palazzo di Genova, più vaccini e più vita dopo quella morte lì l'hanno, insomma, per decenza l'hanno tolto. Ecco, però, omicidio contro ignoti e saranno destinati questi ignoti a rimanere tali. E anche se diventassero ignoti, non sarebbero puniti. È la prima volta che succede, grazie a questo vaccino, che uno può morire, essere ucciso e niente, punizione, non viene punito nessuno. Perché? Eh ma, scusate, ve lo ricordate quel famoso decreto, quello precedente a questo con cui era stato introdotto l'obbligo vaccinale per i medici? Poi convertito in lei il decreto 244 del 2021, convertito in legge nel numero 76 del 2021, ti mette l'obbligo vaccinale, però che cosa aggiunge? Ve lo siete dimenticati? Che cosa aggiunge? Ve lo siamo già dimenticati? Scudo penale! Scudo penale per tutti i medici, per tutti coloro che magari sono intervenuti, hanno vaccinato qualcuno ed è morto. Quindi la magistratura può continuare a indagare, a indagare gli ignoti e anche se per caso alla fine diventassero noti questi ignoti, no? E non cambierebbe assolutamente niente. Sì, potranno andare a sollevare il problema che magari prima hanno detto che era una malattia, poi era un'altra, che magari si possono essere sbagliati, questi cavilli giudiziari che magari tra vent'anni riusciranno a mettersi d'accordo su che cosa non si sa. Il fatto nudo e crudo è una cosa sconvolgente. Grazie ai vaccini tu puoi uccidere qualcuno e stai tranquillo di essere impunito. Vi pare possibile?